Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Siamo finalmente arrivati a 2000 iscritti, 2000 persone e per questo ci tenevo a ringraziarvi di cuore per il vostro supporto che mi avete dato in questo cammino su Youtube Volevo fare una cosa simile a me la godo for you quindi la farò Pubblicherò un video di voi iscritti nel mio canale per darvi più visibita Se siete interessati scrivetemi giù nei commenti partecipo E ovviamente mandatemi il link del vostro video sulla pagina Facebook mia Cura93 Andate su Facebook o altrimenti andate nell'immagine di copertina del mio canale dove c'è il simboletto di Facebook E cliccate lì, mandatemi tramite messaggio privato il video che deve essere non elencato E a fianco al link del video vi mettete il vostro nome su Youtube Scrivete il titolo, tutte le informazioni che vorreste fossero visibili nel canale E io ovviamente se il video sarà meritevole, di vittoria ovviamente quello che sarà Lo pubblicherò nel mio canale e vi darò una visibilità maggiore Per quello che posso offrirvi con i miei 2000 iscritti È un premio, è un modo di premiarvi per il vostro supporto che mi date sempre Quindi ragazzi mi farebbe piacere che molti di voi partecipassero Anche perché so che molti di voi sono Youtuber Quindi ragazzi questo è il ringraziamento che vi vorrei proporre per i 2000 iscritti Spero vi possa piacere e magari se può essere una idea molto buona Lo farei anche magari una o due volte al mese Quindi ragazzi da Curanota è tutto Spero che il video vi sia piaciuto, spero che l'idea vi sia piaciuta Come al solito mi invito a iscrivervi, commentare Compartecipo se siete interessati o commentare se questa idea vi piace abbastanza E mettere mi piace e noi ci vediamo alla prossima quindi Bella raga